Ecco quella casa che abbiamo costruito, io e mio papà, questa macchinina costruita è mio papà, questa macchinina costruita è mio papà, questa è la costruita io, questo è un furgone che ho fatto io, questo è un treno, è un treno che fa velocità, questo è un treno che ha fatto mio padre, E questa macchinina è quella che ho fatto io, va bene, saluta, saluta, ciao, ciao, saluta, saluta, ciao